Il mese scorso il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato l'avvio della procedura di cessione dei complessi aziendali della Congregazione Ancelle della Divina Providenza. Successivamente è stato pubblicato da parte della gestione commissariale l'invito a manifestare interesse per l'acquisto dell'azienda o dei rami di azienda. Il dispositivo approvato in aula si differenzia dal primo per un aspetto fondamentale, in quanto 13 consiglieri regionali chiedevano alla Regione la possibilità di valutare e di acquisire direttamente la proprietà delle strutture di Biceglie e Foggia appartenenti all'ordine religioso, al fine di inserirle organicamente nel sistema sanitario regionale. In sostanza si chiedeva di far diventare pubbliche queste strutture con annesso il personale, dopo la gestione fallimentare e dolosa dell'ente. Emiliano ha ribadito a riguardo l'intenzione di non acquisire la struttura che non rientra in nessun modo nell'ambito di un piano di riordino ospedaliero. Il Presidente della Regione ha però confermato l'impegno affinché venga garantita la continuità del servizio e l'occupazione anche con l'adeguamento delle tariffe, allineandole a quelle delle altre regioni. Questa soluzione potrebbe rendere più appetibile l'acquisizione da parte dei privati.